Su, non lo distraete perché sta facendo una cosa a sé. Gigi, Gigi, lo lanci tu, dico? È proprio lui, Paolo Antoni, di qualche tempo fa e non solo. Ma non Paolo Antonio? Paolo Antoni. Ah, Paolo Antoni. Di nome? Francesco Paolo Antoni. Bravo, ti sei salvato in estremi, stigliatela. Io sono pronto, fatemmo, io ad agiatruato. Non potete capire quello che io... Quello che io... Ho dentro. Gietto, sanga, parta fuori. Uh, guarda la sua, non lo ero, padro mio, solo io. Lui è il mio esempio. No, no, c'è da fare una considerazione di pensiero laterale. Qui in base, mi sentite? Chi è? È lui, è tornato, capitano Kirk. La vita è tutta un quiz. La vita è tutta un quiz. Ho vinto qualche carno. L'esco, sbag... Ladri. Lui è abbandonato su questo... Non l'è abbandonato, lei è stato... Benzoloni, come... Come un pappagallo. In televisione ci vuole decoro, Nari. Ho le coppie un calentino. La dottoressa di di fianco è una giornalista. Sì, è una giornalista seria. Sì, è una giornalista.